Con il presidente Lannuti approfittiamo per fare un bilancio di fine anno. Beh, innanzitutto partendo dalla partita di oggi, direi un Acunio molto poco natalizia, nel senso che non ha concesso davvero sconti. Una partita impeccabile, possiamo dire. Io trovo che oggi ha fatto una bella partita, l'ha giocata, non ha fatto vacanza di sicuro, non ha regalato nulla. Gioco di squadra oggi, piacevole, senza super eccellenze, ma proprio un bel gioco di squadra. Il bilancio secondo me è positivo, siamo arrivati terzi, per adesso siamo terzi, adesso non conosco i risultati delle altre squadre, comunque non c'è da lamentarsi. Poi il risultato si fa alla fine, campionato importante, ma play-off è quello che conta. Grazie, auguri a tutti, buon Natale in ritardo e buon anno a tutti.